Maestro Vince Tempera, compositore e amico anche del maestro orafo Michele Affidato, proprio la persona che questa sera ha realizzato i premi ufficiali per i nostri premiati. Maestro, buonasera e ben arrivato. Buonasera e grazie a voi tutti, ma grazie soprattutto a Michele Affidato, al suo premio che stasera lo scopriamo. Vediamo, ma lui lavora bene, non può arrivare in paradiso se non lavora bene, capito? Io sono femmina purgatorio, adesso mi rilevo un po'. Maestro Affidato, una amicizia che era legata tantissimo al maestro Vince Tempera, parliamo un po' di questi premi che ha realizzato proprio lei questa sera. Ma come ho detto, una grande amicizia, veramente stimo col cuore Vince Tempera, che conosco da diversi anni e questa sera sono veramente onorato di poter realizzare anche una mia opera che verrà consegnata nell'evento dietro le quinte. Questo è un premio che viene riconosciuto a tutte quelle persone che hanno reso anche grande il festival della canzone italiana. Io sono onorato, come dicevo prima, che è il grande maestro che ha raccontato la storia della musica italiana. Ecco, questa sera diceva la mia opera. Presidente di giuria Dario Salvatori, il premio Dietro le Quinte. Bravo! Appeno donaggio, in questa quinta edizione del premio Dietro le Quinte, ideato da Ilio Mastrone, Presidente di giuria Dario Salvatori. Un'eccellenza italiana. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, sei mia. Grazie a tutti.